E adesso abbiamo avuto anche il consenso del TAR, quindi il buon esito da parte del TAR. Alla fine in quest'area non sorgerà nessun piro-cassificatore. A stabilirlo è stato il TAR del Veneto, con pronunciamento del 25 ottobre scorso, ma sentenza pubblicata solo ieri, che dà ragione al Comune e dal Comitato dei Cittadini, respingendo il ricorso presentato dalla ditta proponente. Il progetto bocciato era volto alla costruzione di un impianto per la produzione di energia tramite la combustione o gassificazione di sostanze organiche, biomasse, ma anche altri materiali di scarto. Attività che preoccupava i residenti di Via Camparnei, in Comune di Orsago, sia per timore sull'inquinamento che per il rischio complessivo ricadente sull'area, abitata e già interessata da una centrale di stoccaggio di gas GPL. Ed infatti la sentenza del TAR avvisa un contrasto con la normativa in materia di sicurezza, in quanto l'impianto si trova all'interno della zona di danno, individuato dal piano di emergenza relativo proprio alla sudetta centrale, oltre a numerose altre carenze e contrasti. Siamo stati molto felici perché, essendo tre anni e mezzo che è il comitato a fianco ai cittadini, siamo felici perché ci siamo appellati alla giustizia e abbiamo avuto giustizia in questo caso. Ed sono stati rispettati i nostri diritti, ma soprattutto il diritto a vivere a casa propria in un posto salure.